Ho avuto modo di incontrare, di conoscere il qui presente Agostino Perrone, comunemente noto come Costantino alla Terza. Lui è candidato al Consiglio Comunale di La Terza e alla Regione, Consiglio Comunale di La Terza con Fratelli d'Italia a supporto di Angelo Cefalo, il dottor Angelo Cefalo, candidato sindaco e Costantino è anche candidato alla Regione, sempre con Fratelli d'Italia, a supporto del candidato presidente l'onorevole Raffaele Fitto. Abbiamo discusso su varie tematiche regionali e comunali e ora è il momento dell'appello al voto. Costantino immagini di avere dinanzi a sé ogni suo potenziale elettore. Cosa si sente di dirgli per convincere, per far sì che possa darle la sua fiducia, barrando il simbolo e scrivendo accanto Agostino Perrone o Costantino? Io devo dire che quando io chiedo il voto è una cosa che mi viene proprio spontaneo, in base al lavoro che ho fatto. Sono consigliere assessore da 14 anni, sempre vicino alla gente, sempre vicino ai problemi dei cittadini. Sono una persona che io giro in paese, a differenza di qualche altro, che passa solo in macchina, ma io mi fermo spesso. Contatto, lei dice, con la gente? Mettendo insieme queste situazioni qui è proprio il calore della gente che mi porta a ricandidarmi, perché vogliono sempre un riferimento politico, amministrativo. Oltretutto lei è un imprenditore, a differenza di tanti altri, non vive di politica, ha la sua attività, anzi è proprio la politica che magari sottrae tempo all'impresa e alla famiglia. Questo lo faccio per i cittadini, perché hanno bisogno veramente di un riferimento quotidiano. Io ascolto tutti per la candidatura al Consiglio, perché tanta gente, tanti cittadini, volevano fortemente la mia candidatura a sindaco. In base al progetto che abbiamo messo a disposizione dei cittadini, ho fatto il passo indietro, come ho detto. In nome dell'unità? Sì, perché è giusto così, mi sono candidato alle regionali e se tutto va bene, come sta andando, noi andremo al comune e anche in regione. Se trovi la linea diretta, diciamo, una cosa che tra il comune e la regione, la linea di centro-destra, credo che staremo bene, sia sul versante che nella nostra comunità. Grazie a tutti.